Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con la team di Glaceon. Guardate che bello, bel colore, bello, bello anche l'Hartor di Glaceon per quanto non sia uno dei miei preferiti, ma Pokémon Gix irresistibili e pronti alla lotta. Come resistere al fascino delle evoluzioni di divi? Ve lo dico io, non si può resistere al loro fascino, io spero che ci portino un'evoluzione per tipo. Voglio il tipo veleno, il tipo acciaio e il tipo drago, soprattutto. In questa scatola da collezione troverai, abbiamo detto, un Pokémon Gix, quindi Lifion, Glaceon o Sylveon, le quattro buste di espansione e poi la carta codice. Qua ho già fatto un taglietto, giusto per aiutarci, anzi aiutarmi perché le unghie non sono tantissime, quindi è sempre meglio avere un aiutino extra. Qua allontaniamo il tutto, eccola qua, benissimo. Allora, veniamo fuori dalla confezione, appoggiamo qui. Eccolo qua, il nostro bellissimo Glaceon Gix, dai 200 punti vita, con l'abilità Sguardo Glaciale. Tanto che questo Pokémon è il tuo Pokémon attivo, le abilità dei Pokémon Gix e dei Pokémon X in gioco, nella mano e nella pila degli scarti del tuo avversario, non hanno effetto, a eccezione di Sguardo Glaciale. Buono, l'effetto che blocca va a bloccare gli altri effetti degli altri Pokémon, magari blocca qualche strategia, qualche mazzo nello specifico. Poi abbiamo un Dardogelo da 90 danni con 3 energie, questo attacco infine 30 danni a uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. Molto buono, andare a colpire le debolezze in panchina e Pokémon nelle retrovie è sempre una cosa eccezionale. E lancia Polare Gix da 50, costa da confine 50 danni per ogni segnalino danno sul Pokémon attivo del tuo avversario. Questa è veramente un'ottima mossa, perché anche un Pokémon con 2 o 3 danni si becca già 100-150 pizze in faccia. Se è debole è il doppio, ma 100-150 pizze molte volte basta e avanza per buttarlo giù. Tra l'altro, ok, il costo è di 3 energie, però ci si arriva facilmente. Questa è la promo Sanemun 147. Allora, mettiamola qui. Poi abbiamo una carta codice che io vi lascio, ancora qua di Glaceon, e abbiamo sempre questa roba che è vuota, che non serve. Abbiamo Tempesta Astrale, Stacataca, Giraci, Ultra Prisma con Lifeon e Evoluzioni, Evoluzioni, io dico Ivoluzioni, mi viene più naturale dire Ivoluzioni, essendo anche le team di Ivi, Evoluzioni con Charizard, Ypsilon. Allora, iniziamo con Stacataca. L'Ultra Creatura Stacataca. Vediamo cosa troviamo. Abbiamo la carta codice di Tempesta Astrale, Trick A4, Energia Buio, Ortiglia, Ucibol, Scambio, Wingull, Meditite, Sidut, Clamper, Fanfi, Ottiglia, un'altra volta, e Swampert, raro. Io vorrei fare i complimenti a chi imbusta, a chi fa le bustine, perché veramente... Vabbè, vabbè, non diciamo nulla, non diciamo nulla. Tempesta Astrale, andiamo con Giraci, che poi è Girachi o Giraci? Girà. Sarebbe Giraci. Ho sempre saputo dire Giraci. Non è corretto Giraci, ma sembra di sì. Cioè, più corretto di Girachi. C'è chi chiama Girachi, non mi pare, insomma. Allora, Energia Folletto, Masquerain, Sostegno di Bill, Pulse, un altro Wingull, un Trico, un Voltorb, un bello Sneasel, un altro Sidut, una Cintura Frenesia, e un Victribel raro olografico. Mamma mia! Eh! Questa Tin fatica a decollare. Cosa apriamo per... Evoluzioni sempre per ultimo. Mi secca aprire adesso quella con Lyfeon. Mi secca parecchio, ma... Evie! E giustamente c'è Lyfeon. Nell'attin di Glaceon. Vuoi non mettere come primo Pokémon Evie? Non mi dispiacerebbe una bella GX di qualche evoluzione. Vero carta? Vero pacchettino di carta? Eccolo qua, Evie. Vulpix, Diglett, Shinx, Yamma, Manemite, e Tapulere, Lele. Raro non foil. Eh! Insomma, male, male, male. È rimasto il pacchetto di evoluzioni. Insomma, vorrei trovare qualcosa, perché nessuno fa compagnia al povero Glaceon. È tutto da solo lì. È triste. È triste. Andiamo di aprirla bene. Andiamo di riuscire ad aprirla meglio degli altri pacchetti. Forse ci sto riuscendo. Ma porca vacca. Non ci sto riuscendo nella vita. No, no. Non ci sto. Adesso sì. Adesso. Oh, bene. Abbiamo detto il trick era A3. Non mi ricordo. Io faccio confusione coi vari pacchetti. Allora, Pokédex. Oh! Ragazzi! C'è qualcosa. C'è qualcosa. Ti prego. Ti prego, Charis. Argetto di involuzione. Magmar. Ma perché? Tutte queste carte hanno la parte destra più grande di quella sinistra. Ma perché? Questa no, per esempio. Weedle. Machop. Pikachu. È una carta break. Magnemite. No. Cos'è? Machamp. È una carta... Starmi. Ok. Machamp Turbo. Ok. Io di evoluzioni ho poco o nulla perché non lo trovo spesso, non lo porto spesso sul canale, quindi ogni carta va bene. Finalmente troviamo qualcosa. Però, guardate, io ce l'ho a morte con Machop che in ogni pacchetto, di ogni espansione, di tutto quello che posso trovare, io trovo sempre Machop e affini. E infatti la carta Turbo è Machamp con la Zomerang, che è un nome impronunciabile. Durante il tuo prossimo turno gli attacchi di questo Pokémon figliano 100 danni in più al Pokémon attivo del tuo avversario. Però, guardate che figa, veramente, veramente, veramente figa. Ok. Poteva andare meglio? Beh, io non mi lamento, semplicemente per la Turbo. Magari non è la Turbo migliore, magari evoluzioni da molte altre soddisfazioni, però non mi lamento affatto, anzi. Ragazzi, per oggi era veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, condividere. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!